io cambio posizione da qui è impossibile scappare perché quanto io sono su tu sei sempre sotto attacco non si vedi che tu sei sotto attacco ogni tuo movimento si trasforma in una mia attacca io so che cosa che cosa voglio fare e dove vado invece adesso tu vedi sapendo cosa faccio adesso non puoi schivare si vieni ancora una volta di qua io ti ho mostrato una variante quando io non ci l'ho una preza buona magari sono qui vedi magari cos'io un po' cittino controllo tuo gommetto vado hop apro vedi cosa stai hop io sono qui vedi stringo c'è l'ho questa preza mi basta andare giù con culo vedi gamba vedi dove mi metto gamba sinistro non permetterti non perciò che mi giri tu ti alzo un po' cino in ponte e mi abbraccia vieni qui vedi sei attaccato attaccatissimo vado e poi da qui mi spiego e basta non uso se voglio usare forza sarà molto più molto più pericoloso hai capito quello dovevi fare questo ti mancavo solo io neanche non potevo dirti questo con parole perchè non sapevi il principio adesso sei al principio ti pido però immagina se loro non prendevano anche cintura regionale ci sarà una vergogna per tutta palestra vai adesso mi interessa solo che tu controlli ogni particolarità gomito, corpo sarai rilassato e non permetti che io passi con gomito sotto allora da qua si pian pian hop sei qui pian pian adesso trasforma vedi io posso provare uscire così con gomito e vedi poi ti trovo si si ma alza con questo ginocchio metti come era vedi alza alza con ginocchio vedi alzi le braccia e poi cambia ti giri lo stesso con glutea sinistra giù vedi glutea vedi io ti controllo non voglio che tu vai in dieta vedi ti controllo dai vai in dieta hop hop piano 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 aspetta io sento già che mi schiccio io ridrizzo braccia qui hop per non sentire questo dolore e tu pian pian poi anche aspetta puoi spingermi di là girarmi laterali hop e fai presa hai già presa già presa abbiamo presa c'è per facilizzare perché ho passato il primo braccio il culo giù e di la suffoca la scena più profonda trucco capito che è meglio passare il primo braccio perché dopo quando sei già con il culo è difficile mettere il braccio qua puoi controlli testa si qui poi coperto poi puoi il culo giù attaccato e avanti pam 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 e basta quasi morta aspetta qua qua testa posso già fare così no? aspetta e poi con l'occhio posso aprire così? là tranquillo tranquillo qua importante tu sei semplicissimo questa è una cosa da da distanza aspetta mettiamo alla camera perché devono vedere da advance perché tu avversario devono vedere cosa prepari per sparare capisci? adesso vediamo qui vediamo qui vediamo qui vediamo qui qui vediamo qui vediamo qui vediamo vediamo qui aspetta questo braccio puoi controllare controlla un po' vieni con la stella giù non lasci secondo non serve ok controllami con vòmito spingimi con vòmito si e adesso soffocami con un braccio vai aspetta più basso il corpo deve essere tuo più basso più attaccato alla terra con umbilico alla terra vai 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 e con glutea giù con glutea con glutea vai 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 incorrigir